Oggi vi voglio raccontare un altro riquadro di Giotto affrescato nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi. Siamo sempre negli stessi anni, c'è chi dice tra 92 e 96 chi propone una dotazione fino al 1299, ma ci cambia poco. E l'opera che stiamo guardando è appunto la rinuncia di Francesco ai beni terreni, quindi la rinuncia ai beni terreni. Come sempre dobbiamo prima capire di cosa parla il soggetto. Allora stiamo parlando della vita di San Francesco. Francesco era nato con il nome di Giovanni in una famiglia di madre aristocratica e di padre benestante perché si era arricchito nella produzione e nel commercio, in particolare di stoffe, di tessuti. Tanto che addirittura siccome il commercio della famiglia aveva portato alla fortuna economica della famiglia grazie agli scambi con la Francia, il padre cambierà il nome di Giovanni in Francesco, proprio in onore della Francia. Immaginatevi, il padre che aveva messo in piedi questa impresa, diciamo così, di fortuna, si immaginava davvero che suo figlio avrebbe proseguito l'impresa. Un po' come accade quando i vostri genitori magari si immaginano che voi continuate il mestiere che loro hanno o stanno facendo o hanno fatto e magari veramente quasi come fosse una specie di passaggio di consegna naturale, no, in famiglia. Quante volte i genitori ci dicono, ah io tutto questo l'ho fatto per te, ah tu un giorno mi ringrazierai, eccetera, eccetera. Immaginatevi. Ecco, allora io voglio parlarvi della storia di Francesco della rinuncia dei beni rappresentata da Giotto perché la trovo ancora incredibilmente attuale sotto moltissimi aspetti. Allora, la storia è questa, dicevamo, quindi Francesco è nato in questa famiglia, dopo varie vicine era entrato a lavorare appunto nella bottega del padre, nella bottega appunto commerciale del padre, ma piano piano va incontro a partecipare a una guerra, quelle guerre che c'erano tra guelfi e ghibellini dell'epoca, viene imprigionato, quindi Francesco va incontro a una serie di difficoltà che lo portano a riflettere sulla sua vita e a prendere decisioni importanti. Dopo questi momenti, quando ritorna da queste guerre, insomma, non riesce più davvero a ricominciare la sua vita di prima. A volte quando accadono eventi traumatici così forti, così grandi, pensate al momento che stiamo vivendo noi adesso, non è più possibile tornare al prima. Siamo cambiati noi, sono cambiate le circostanze, non ha senso pensare di tornare al prima, quindi Francesco ne approfitta per riflettere e dare un senso nuovo alla sua vita. Cominciano allora le sue, chiamiamole, stranezze, nel senso che immaginatevi questo ragazzo di buona famiglia, benestante in vista nella città di Assisi, comincia a abbracciare i lebrosi, a compiere delle azioni davvero un po' strane. Un giorno va nel magazzino di famiglia, prende le stoffe che il padre doveva vendere, va a venderle insieme al suo cavallo e con il ricavato si reca in una piccola chiesetta, dal parroco di una piccola chiesetta che era un po' andata in rovina, offrendogli il denaro che aveva ottenuto da queste vendite. Ovviamente il padre si infuria clamorosamente e il sacerdote tra l'altro rifiuta questo denaro perché conosceva il padre, non voleva, immaginatevi no, il paesino piccolo e il pettegolezzo che si insinua. Allora il padre addirittura arriva a denunciare Francesco per questo furto, non tanto perché davvero volesse punirlo, ma perché sperava che in questo modo il ragazzo rimettesse la testa a posto. E durante il processo allora accade esattamente l'episodio che noi stiamo vedendo, rappresentato da Giotto. È il momento in cui, dopo che il padre appunto ha proposto la sua versione dei fatti, Francesco si denuda completamente, restituisce le vesti, i beni materiali a suo padre dicendogli di qui in avanti posso dire con certezza padre nostro che sei nei cieli poiché Pietro di Bernardone che era suo padre, mi ha ripudiato. Allora, fino a questo momento come dire Francesco si era ritenuto un figlio, terreno di suo padre, questo Pietro Bernardone, ma aveva capito che era anche e soprattutto figlio di Dio. Ed ecco che allora gli restituisce tutti i suoi, restituisce al padre tutti i suoi beni materiali, gli abiti che per lui rappresentavano non semplicemente gli abiti che indossava, ma la strada, il futuro che il padre aveva pensato per lui, queste stoffe, questi abiti preziosi che rappresentavano il successo per il nostro Francesco. Ecco, questa è la storia. Guardate che cosa ha fatto Giotto, è un'opera divertentissima, anche se appunto è un'opera di genere sacro, di grandi dimensioni, dicevamo sempre 230x270 cm, siamo sempre nella Basilica Supergio di San Francesco di Assisi, tutto il resto è uguale a quello che abbiamo già detto in precedenza. Ma guardate la scena, guardate la composizione, ricordiamoci sempre che analizzando gli elementi stilistici emergono le componenti simboliche, quelle interpretative più interessanti e quelle che rendono l'opera anche più attuale, come vi dicevo. Guardate, la composizione è ancora una volta nettamente separata in due parti ed è separata in due parti secondo ancora una volta la diagonale che noi possiamo tracciare, vedrete che le braccia, le mani giunte in preghiera di Francesco seguono la linea diagonale che taglia in due parti l'opera. Ma in particolare vedrete che questo taglionetto in due blocchi di personaggi che vengono ribaditi da due gruppi di edifici di architetture alle spalle tagliano davvero in due la scena quasi simbolicamente a mostrarci un prima e un dopo o il mondo civile di cui prima Francesco faceva parte e il mondo religioso che invece diventerà poi la sua vera casa, il suo vero edificio dopo aver compiuto questo gesto. Ma vorrei farvi notare che in mezzo a questi due blocchi di architettura e blocchi di personaggi c'è il vuoto. Questo è un aspetto molto molto interessante, mi avviso, perché è davvero come se Giotto volesse davvero creare un momento di suspense, di respiro, questo momento in cui tutti si bloccano perché nessuno sa bene come reagire. Ed è molto bella, molto umana la scena che Giotto ci propone perché Francesco si è appena denudato dei suoi abiti, gli ha restituiti a suo padre, suo padre lì cinge ancora in mano e vedete, suo padre che aveva denunciato il figlio per provare a fargli rimettere la testa a posto, sta avanzando, direi con vigore, con decisione verso suo figlio, si sta tenendo la veste con una mano, sul braccio ha appoggiato gli abiti che Francesco gli ha restituito, si sta tenendo la veste con una mano proprio per facilitarsi il passo in avanti e vedete che uno dei cittadini, forse un amico che è dietro di lui, lo blocca per un polso, ma lo blocca, guardate, sembra proprio di vedere la clavicola che viene stirata, bloccata indietro con decisione, con forza, perché guardate la meravigliosa lumeggiatura, l'effetto del chiaroscuro che sbianca la parte della coscia e del ginocchio e della parte della gamba che stanno avanzando a dimostrarci proprio che Giotto vuole mostrarci quello che sta accadendo, il padre, io dico sempre ai miei ragazzi, sta, se non fosse fermato andrebbe in avanti e probabilmente tirerebbe un ceffone, uno schiaffo a Francesco, perché? Perché Francesco non soltanto stava rinunciando al sogno del padre, no, di avere un figlio che avrebbe proseguito la sua, i suoi affari, la strada che lui aveva creato, costruito per lui, ma addirittura Francesco sta facendo di peggio, lo sta svergognando pubblicamente davanti a tutti. Ora, immaginatevi, i vostri genitori che hanno sicuramente favoreggiato su di voi, che si sono immaginati per voi un futuro di un certo tipo, chi desidera per voi un futuro da musicista, chi desidera un futuro da ingegnere, da avvocato, da medico, da infermiere, qualunque mestiere, magari chi addirittura, dicevamo, ha una sua attività imprenditoriale, immagina davvero che il figlio prosegue in quella direzione. I vostri genitori, immaginate, voi vi spogliate nudi in piazza, qui siamo, in teoria l'episodio dovrebbe essere accaduto in piazza Duomo a Foligno, quindi immaginatevi, siete a Milano, in piazza del Duomo, vi denudate completamente, restituite gli abiti a vostro padre, ai vostri genitori dicendogli, io non sono solo figlio tuo, sono anche figlio di Dio, non ho bisogno dei tuoi beni materiali, non ho bisogno del potere, degli oggetti, pensate quanto è contemporaneo, no? L'idea di rinunciare al consumismo, gli oggetti, all'avere, Francesco sceglie di rinunciare agli averi, ai beni, per essere, per essere ciò che sente di dover essere, ma lo fa denudandosi in piazza, cosa pensano tutti, guardate, scena meravigliosa, dietro il padre, dietro Pietro, il padre di Francesco, ci sono gli uomini della città, lo conoscono tutti Francesco e guardate, alcuni stanno, chiacchieranno tra di loro, si guardano, si scambiano degli sguardi come dire l'ho sempre saputo, io l'ho sempre immaginato, quella famiglia così tanto per bene, qualche cosa sarebbe andato storto, ci sono sempre le malelingue, le persone che vogliono quasi sperare di trovare, le persone che mormorano e che sperano sempre di trovare, di cogliere in fallo gli altri, la superficialità delle persone, il pettegolezzo, quante volte le persone vengono messe all'agonia, vengono ridicolizzate, la maggior ragione se si comportano in modo strano, Francesco si era spogliato nudo, sembrava un matto, quindi ecco che intorno a lui le persone mormorano, dicevamo guardate addirittura questo episodio bellissimo, due bambini che stanno chiacchierando anche loro e si stanno sollevando la veste, a me fa pensare due cose questo gesto dei bambini, no tre, uno da un lato la sapienza pittorica di Giotto che di nuovo impiega il chiaroscuro per renderci l'effetto di ciò che sta accadendo, della freschezza, dell'immediatezza, della quotidianità, il santo Francesco è un santo uomo, non è un santo bizantino greco, vi ricordate cosa diceva Cennino Cennini, quindi da un lato è la pura pittura modernissima che Giotto ci propone, dall'altro a me sembra quasi che questi bambini abbiano raccolto in grembo dei sassi pronti a lanciarli verso il matto del paese, quante volte i bambini nella loro innocenza presunta rivelano in realtà un aspetto di cattiveria, nel senso che non hanno la capacità davvero di discernere ciò che è bene e ciò che è male, quindi davvero se c'è qualcuno da ridicolizzare ecco magari forse questi bambini ne approfitterebbero dei bulli, pensate, e un altro aspetto che vorrei mettere in risalto di questi bambini i bambini replicano sempre i gesti degli adulti in fondo il loro gesto a me sembra ricordare molto il gesto del padre di Francesco quindi io dico sempre attenzione a come gli adulti si comportano perché i bambini sono degli specchi e replicano esattamente quello che fanno i grandi gli adulti se gli adulti chiacchierano e mormorano la stessa cosa faranno loro se gli adulti prendono in giro la stessa cosa faranno loro quindi davvero questo è un insegnamento molto molto interessante molto forte ma abbiamo analizzato la parte della vita civile dall'altra parte abbiamo invece quella che diventerà la scelta di vita di Francesco cioè la vita religiosa Francesco ha abbracciato la vita religiosa cosa succede? Dietro Francesco però vi vorrei presentare il vescovo Guido II il vescovo di Assisi cosa fa il vescovo che dietro Francesco anche lui fa almeno due cose la prima immediatamente copre la nudità di Francesco con un piviale questo drappo questo abito questo elemento religioso piviale blu lo stesso colore del fondo del cielo di nuovo Francesco vestito con i colori del cielo come abbiamo già visto nel dono del mantello ma quindi da un lato il vescovo copre la nudità di Francesco qualcuno dice con il piviale lo abbraccia come dire che adesso Francesco fa parte della chiesa guardatelo bene il secondo gesto che compie il vescovo è guardare da un'altra parte mi sembra quasi di immaginare che questo vescovo vorrebbe essere ovunque tranne che lì in questo momento sì perché Francesco si è spogliato nudo fa la figura del matto e lo fa in onore di Dio in nome di Dio ma la chiesa non ha mai accettato la nudità provate a entrare in una chiesa a visitare una chiesa a me è capitato d'estate con braghette corte con canottiere ma niente di particolarmente chissà no usceno semplicemente quando fa molto caldo quando mi è capitato quando ero una ragazzina giravo per chiese per andare a vedere i catini a psidale i mosaici immaginatevi mi è capitato di essere allontanata dalle chiese perché ero vestita in modo non consono per il luogo religioso ma era veramente era una ragazzina con non immaginatevi non chissà quale uscenità in vista davvero era un abito leggero estivo niente di che la chiesa non ama mostrare le nudità immaginatevi Francesco che si è denuda dicendo lo faccio in nome di Dio ecco il vescovo a me sembra guardare dall'altra parte perché come dire davvero rinnegherebbe volentieri le parole di Francesco vorrebbe essere davvero da tutt'altra parte e dall'altra parte è costretto a coprirlo quindi è a me sembra da un lato che Francesco si trovi isolato sia dal mondo di suo padre e della vita civile di prima che in qualche modo lo ha forse etichettato come un matto dall'altro la stessa chiesa che dovrebbe abbracciarlo per davvero forse un po' si vergogna della sua scelta non la condivide appieno perché la scelta di Francesco tra l'altro non va nella direzione di quella che era la religione condivisa la chiesa di quel momento la chiesa comunque viveva in luoghi decorati nella ricchezza come dire Francesco invece vuole vivere era il poverello verrà chiamato vuole vivere fondere la puntuale di mendicanti vorrà vivere di ciò che Dio gli darà non dei beni materiali non della ricchezza e anche in questo c'è segna una distanza rispetto al mondo della chiesa dietro di lui ci sono degli altri personaggi che riconosciamo per l'acconciatura essere uomini di chiesa così come poi i francescani adotteranno questa stessa acconciatura ma quindi il nostro Francesco viene in qualche modo a trovarsi a un bibio perché se rinuncia alla sua vita di prima entra in quella di dopo ma viene anche un po' come dire frainteso poco capito poco amato da quelli che dovrebbero essere al suo fianco e allora ecco che prende un senso il suo gesto di preghiera Francesco ha il volto incorniciato dall'aureola rivolto verso l'alto illuminato le mani giunte in preghiera e guardate allora questa divisione che dicevamo prima all'inizio in diagonale ecco la diagonale ci porta a incontrare la presenza strana per voi forse un po' surreale qualcuno qualche volta mi ha detto anche se il termine surreale per noi assumerà un significato completamente diverso ma se non altro usiamo l'espressione strano questa presenza di questa mano è in cielo che sta volando e sì perché la mano di Dio la mano benedicente Dio sta benedicendo la scelta di Francesco Dio unico tra tutti sta benedicendo la scelta di Francesco ecco che allora le mani di Francesco giunte in preghiera sfociano nel blu del cielo Francesco è a contatto con il divino è colui che porta il divino in terra dicevamo ma è quello che davvero riesce a proporre un contatto molto forte con il cielo con il divino vediamo devo raccontarvi ancora qualcos'altro ancora è inutile che vi descriva l'espressività profondissima dei volti e ovviamente le posture quindi il pathos molto accentuato postura dei corpi ed espressività dei volti e ancora vi voglio invitare a considerare l'esempio di Francesco seguire la propria strada seguire la propria vocazione non assecondare i desideri dei genitori quello che la famiglia o la società si aspetta da noi la società si sarebbe aspettata che un ragazzo di buona famiglia avrebbe continuato su quella via invece no Francesco segue la sua strada la sua vocazione ed è così che dovrete fare anche voi non darvi in pubblico ma seguire chiedervi interrogarvi riflettere prima di tutto conoscere quello che è il vostro destino quello che è il vostro desiderio quello che voi siete in grado di fare volete dovete fare e poi seguire quella strada ultimissimo elemento che vi sottolineo riguarda l'incredibile studio anatomico del nudo di Francesco questo studio anatomico ci catapulta quasi nel rinascimento che è lì alle porte sì ma dovrà passare ancora un secolo altri cento anni sì perché guardate come erano realizzati i corpi prima di Francesco questo è un bellissimo crocefisso crocefisso di San Domenico ad Arezzo del maestro di Giotto cioè Cimabue un crocefisso ligno come quello che abbiamo già visto fatto da Giotto di nuovo vedete il Cristo dolente con la testa rivolta piegata di lato e un'anatomia ancora assolutamente bizantineggiante guardate come appunto il solito salsicciotto come abbiamo notato già in precedenza e queste bellissime lumeggiature che impreziosiscono iperizoma ma che rendono assolutamente astratta quasi la presenza di questo corpo guardate invece il corpo anatomicamente messo in evidenza con il costato magro di Francesco un santo che evidentemente ha già rinunciato ai beni materiali già sta mangiando poco da un po' di tempo evidentemente si sta già rivolgendo a quello che poi sarà davvero il suo il suo destino la sua vita in povertà ma guardate come questa luce il chiaroscuro meraviglioso impiegato da Giotto renda la scena profondamente realistica naturale e verosimile simile al verosimile a come gli occhi la vedono grazie a tutti